Dal 18 giugno all'8 luglio è stata attivata una promozione per Siracusa in accordo con Ok Art, fornire un servizio per i turisti e non turisti riguardo l'arte del cibo, l'arte dell'arte del dipingere, l'arte, la body art, quindi esercizi di ginastica, yoga, lezioni sull'alimentazione e inizieremo all'ecosconvento di ritiro e quindi invitiamo tutti i seracusani e anche i turisti in questo lavoro così grande. Io ho coinvolto molti miei alunni che avranno dei ruoli importanti in questo periodo, chi per esempio traduce in inglese durante una visita guidata, chi guida i turisti, chi lavora in cucina col cuoco, chi lavora su Facebook per comunicare a tempo reale tutto il lavoro che si fa. Grazie a tutti.